Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Antonio, lei è Lisa e lei è Chiara e oggi stiamo facendo una challenge, beccati tutti, vi faremo vedere dopo cosa serve, Chiara Ok ragazzi, ora Lisa mi deve lanciare i piatti, allora ogni piatto che lei lancia tre possibilità che lo vecchia se no sono nella mella, ok, vediamo, 3, 2, 1, una porta di quella, vai prendilo, 3, 2, 1, via, ragazzi dai, 3, 2, 1, ma porta ti devi mangiare tutto, oh cavolo, eh ragazzi, devo mangiare l'olio, carà, ok ragazzi, passiamo al prezzo, schifo, no dai, schifo, 2, 2, 1, via, ma no, è lei, scriviti, non è come ti sei lento, c'è il male che sei lì, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ora non ha sparato, oh, si rifanno, non ha sparato ragazzi, non ha sparato ragazzi, se non c'è falto che picciologo, che s'è? oh ma è vero, ma te scusi tu ci hai fatto un'opera molto così ma bello, ok, allora dove dai che per me ci faccio apri o di lui oh si muorzi, chi tu sei? no, ma non è nella mia mano che è? e ho cosa c'e nooo, ti credo è quello la sì dai 3, 2, 1 Questo era anche vicino, questo era anche vicino Ok, passiamo al prossimo piatto 3, 2, 1 Non l'hai beccato 3, 2, 1 3, 2, 1 Troppo schifo, è sfortuna Dobbiamo mangiare delle cose di bella Ok raga, ho il tuo piatto Se becco questo, grazie a Dio Se non lo becco sono nella... Merda Proprio, presente nel gabinetto quando... Eh, quello 3, 2, 1 Oh, non l'hai superato 3, 2, 1 No, ma questo è beccato, eh No, no Sì, di rimbalzo ma è beccato No, non vuole Sei finito 3, 2, 1 Così 3, 2, 1 Eh, questo è beccato Grazie a Dio Ok, però è un beccato uno Quindi, le altre tre di non mangiare Posso? Posso spararla? Sì? Ma dai! Ah, non è che... Allora, devo un po' di dare Oh, che schifo Chiara Allora, adesso Antonio mangerà l'olio Beberà l'olio Bere e olio Bere e olio Eh, là c'è l'acqua Guardate Eh, ragazzi, ne prendo così pochi È perché fa schifo È olio 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 Levati È olio, berro È olio No, fa schifo Posso tarparmi il naso? No, no, no No, no, no Vai Vai, 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 vai Eh, questo è whisky, no? Vodka liscia E cicchetti, vai Vai Posso bere? No No Allora, voglio bere acqua Vodka Ok Ora cosa Ora devo bere aceto balsamico Aceto balsamico, eh? Guardate Aceto balsamico Balsamico Piatti scritti da me, ovviamente Sì Mi dai Vabbè Il prezzo, vabbè Ragazzi Che schifo Vallo a vedere Dopo posso bere acqua, no Dai, l'acqua la posso bere No, dopo che hai mangiato No, bevuto questo Vai, dai No, ragazzi Dopo questo bevete Ok, dai No Manda giù Manda giù Manda giù Mangia Vai Vai, manda giù Dai Sputa Nel picchiere No, manda giù No Oh, che schifo Non ce l'hai fatta Con l'invieto No, va bene Va bene Va bene Va bene Ci provo Oh, schifo Che sogno Buono Ok, ora Ora La l'antella sale Ma poco sale Ragazzi Muoglio Sennò Veramente Nutella e sale Ok Un po' di nutella Un giorno Che schifo Dopo io No Ma perché Ma che schifo Vai È vero Dai, mangia 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 Dopo beve Tutorial Sì, questo è stato il peggiori Ma Il più schifoso È stato Questo C'è una mosca Che cazzo vuole Buono Sto fai Beh, ragazzi È stata una merda Comunque Allora Che fatti Quello no Spero che il video Vi è piaciuto Sì, sì È piaciuto Polliciate Condividete E alla prossima Con Antonio Ragazzi Ciao